Sì, è martedì esce per PM Edizione il suo nuovo libro Io e Green Heroes perché ho deciso di pensare verde Alessandro Gassman Ah, vedi, il canto è sano per me Dove stai? Bene, bene, sto bene Sto bene Grazie Sto bene, sono molto contento di essere qui Grazie per essere qui di nuovo, prego Tu devi dire sempre, ho capito questo Ma questa volta sono particolarmente onorato di esserci Perché insomma per una causa che mi preme moltissimo Allora ti volevo fare una domanda subito così Se la so, prego No, è molto semplice Come ti senti? Facendo le corna, come ti senti? Bene, grazie Anch'io mi sento bene ed è incredibile questo Allora ti do un'informazione Sì, allora do a tutti perché tutti stiamo abbastanza bene Allora, noi ogni settimana mangiamo 5 grammi di plastica È come se ogni settimana ognuno di noi Assorbendo attraverso l'acqua il cibo Mangiasse una carta di credito a settimana Sì, quello a volte capita In un anno, cioè in 52 settimane Mangiamo due etti e mezzo di plastica Questa è la situazione Sei contento? Non voglio fare il passaggio al contrario Però a volte Quando Vabbè, tu sei giovane Ma non solo giovane Vabbè, appunto, era per dire No, ma senti Quando hai la cervicale Le cose Io vi chiedo sempre Ma se fossimo fatti di Mopland Non sarebbe meglio Probabilmente avremmo meno dolori Allora dovremmo Però è un atto impressionante Quanta plastica mangiamo? 5 grammi a settimana Che fanno due etti e mezzo all'anno Oh Anzi, due etti e sette Due li lascio lieta e li do grazie Mica male Io e Green Heroes Cioè gli eroi verdi Perché ho deciso di pensare verde E questo è veramente Insomma, si dice sempre autobiografia Ma questa è davvero In un certo senso Un'autobiografia Sì, lo è Perché racconta Certo, di te Della tua infanzia Di tuo padre Della tua famiglia Ma racconta quello che sei oggi Cioè la tua passione I tuoi interessi E i tuoi impegni Sì, il tentativo è questo È un libro che racconta Sì, in parte la mia vita Ma soprattutto come Attraverso la mia vita Le esperienze che ho avuto Le persone che ho incontrato I genitori che ho avuto È nata in me Una forte Un forte desiderio Di occuparmi Di quella che è la natura Dei cambiamenti climatici Che sono Secondo me In questo momento Almeno dovrebbero essere Il centro dei nostri interessi Perché Come sappiamo Però questo è un libro Che non vuole Anche prima ho scherzato Non vuole spaventare Perché è un libro Al contrario Esatto I Green Heroes sono Persone che hanno fatto Delle scelte Che tu hai scoperto Esatto Attraverso appunto Attraverso il Kyoto Club Che è un club Attraverso il coinvolgimento In questi temi Sì, assolutamente Annalisa Corrado Che mi ha accompagnato Che è di là Che è una ingegnera Che mi ha aiutato a comprendere Ho fatto lezioni Ho studiato Ho letto tanto Persone Imprenditori E persone che hanno fatto Delle scelte di vita Che hanno fatto impresa O scelte di vita In un'economia ecosostenibile Con grandissimo successo Perché la cosa interessante È che oggi Imprendere In aziende O in attività ecosostenibili È più Redditizio Di quanto non sia Non farlo Tutte queste persone Danno lavoro Senza A impatto zero Senza danneggiare La natura Resistentissime Di altissima qualità E vendono in tutto il mondo E hanno E stanno andando fortissimi Sempre eliminando la plastica Sempre mi viene in mente Negozi leggeri Ce ne sono ormai tanti In Italia Sono negozi Dove possiamo acquistare Tutto quello che acquistiamo In un normale Supermercato Senza plastica Cioè tutti i prodotti Sono sfusi Vai lì Ti compri le cose E non spandi Non Non Mandi in giro Neanche un millesimo Di grammo di plastica Ricordo che già anni fa In questa trammissione Che insomma Si è sempre occupata Di questi temi Da quando è nata Mostrammo la quantità Di imballaggi Per esempio Rispetto a un oggetto È incredibile La dimensione La quantità di imballaggio Rispetto alla quantità Il peso Al volume Che occupa l'oggetto Che è imballato Ma se ci pensiamo Sono proporzioni C'è un pianeta Di roba Che non serve a niente Esattamente Poi volevo dire Un'altra cosa Su questo libro Se mi permetti Prego In questo libro Insomma I proventi I diritti I miei diritti Di questo libro Verranno interamente devoluti Alla piantumazione Di alberi da frutta In terreni Gestiti da associazioni Che sia come Di persone in difficoltà Che possono essere Tossicodipendenti Persone con disabilità Donne che hanno subito violenza E quindi sono molto fiero Nel senso che Mi auguro che il libro Possa di piacere Mi sembra un buon libro Che ho scritto con Roberto Bragalone Ma mi auguro anche Di venderne tanti Perché più ne venderò Più alberi Intanto noi lo rifacciamo vedere Ancora una volta Ecco per PM L'editore Io e Green Heroes Perché ho deciso Di pensare verde Ecco A dispetto di quello Che uno può pensare Davvero non è un libro Non è un sermone Non è un'invettiva Non è un rimprovero Non è un Come dire Non incute Spavento Non deve farlo Non deve farlo E oltre a queste tematiche C'è anche un racconto Di Alessandro Su Alessandro Gasman Appunto Sulla sua famiglia Lui tra l'altro Tu dici che sin da piccola Hai avuto questa propensione Per la vita A Greste Sì Nel senso che mia madre Mia madre è nata In una famiglia di contadini In Francia Sì E' diventata un'attrice Nel tempo è cresciuta Però ha sempre mantenuto Con la campagna Dove ha vissuto Tutto il resto La sua vita Un rapporto da contadina Non da signora Di città Che va in campagna Che si sporcava le mani A fare giardinaggio E' una che Ancora oggi 86 anni Che Dio la benedica Zappa Fa E quindi anche Il mio approccio Con la natura È stato di questo tipo Ho vissuto una vita Meravigliosa E una infanzia Soprattutto meravigliosa Da contadino Ne sono molto Molto Onorato E felice Ho letto che Con lei ti senti Tutti i giorni per mail Sì perché dunque Mamma ha 86 anni Ha compiuto 86 anni Pochi giorni fa Ma noi ci sentiamo quasi quotidiana Anzi quotidianamente via mail Perché lei Purtroppo detesta Skype Sì Perché non sente più benissimo Sì Insomma è un rapporto È una donna Con un forte carattere E quindi Si incazza E allora Dopo 4-5 Incazzature forti Ho detto Ma guarda Scriviamoci Poi Perché non vuole mettere L'apparecchio Che le aiuterebbe A fare questo Sì Senti Ho letto che tu da bambino Dici che sapevi parlare Con i passeri Conosci il segreto Per far avvicinare Gli animali selvatici Sì Non è un segreto Di pulcinella Nel senso che Durante Quando ho letto E come si fa Non mi è venuto in mente È molto semplice Tu ti devi mettere Allora Durante il primo lockdown Quello duro Ho avuto la fortuna Di trovarmi in campagna E l'ho passato in campagna Anche nel momento Quello durissimo Dove non ci lasciavano Neanche muovere la macchina Sì Dato che ero in campagna Mi potevo permettere Di muovermi nel verde E sono un grande osservatore Mi piace Sono un appassionato Di specie animali Vegetali Da sempre E un giorno Mi sono fissato A osservare Non mi ricordo cosa E sono stato 10 minuti Senza accorgermi In totale silenzio E mi si è avvicinata Non mi è Mi si è avvicinata È passata Vicino a me Una volpe Non accorgendosi di me Quindi per una volta Ho osservato io Un animale Che non ti aveva visto E non mi ha visto Ho continuato a fare questo Nei mesi successivi Visto che Diciamo la verità Avevamo poco da fare Sì Mia moglie era anche contenta Perché stavo fuori Casa Tanto Lockdown Era alleggerito Da questa mia assenza E Quindi era contenta No ma vai Vai a osservare gli animali E E ho visto animali vari Nel senso Ho visto un cerbiatti Un tasso istrice Da non confondere con riccio Un tasso istrice Da non confondere con riccio L'istrice non va confuso con riccio No certo Il riccio è quello piccolo L'istrice è molto più grande Ma il tasso è un'altra cosa ancora E il tasso Appunto No perché tu hai detto Tasso istrice Ah tre cose Riccio No pensavo che esistesse un tasso istrice E l'ho disperato Dico no Scopro a 57 anni Che esiste il tasso istrice Non sarei qui No Sai Non sarei qui Diventa un animale strano Un po' come Sarchiapone Sì 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 Tra l'altro Lui voleva fare agraria Sì È stato suo padre Sì però Non è che non ha voluto Poveraccio Io ero andato malissimo a scuola Mi hanno bocciato Svariate volte L'ingiustizia Ho passato Diciamo Un'ingiustizia è stata Ho fatto Diciamo Ho preso il diploma Liceale Della scuola inglese Perché ero capitano Della scuola di pallacanestro Quindi diciamo Questo Ero interessante solo per questo Quando gli ho detto Vado a Perugia Mi piacerebbe fare agraria Ha subodorato Che in realtà poi era così E andavo fuori da Roma Per continuare a fare Quello che avevo fatto Fino a quel momento Mi ha preso per le orecchie E mi ha fatto prima fare il militare E poi mi ha portato in tournée A fare il macchinista Perché ero spesso allo stadio Ero addetto ai fumogeni E quindi ho detto Faccio il Macbeth Dato che deve uscire del fumo Dalla botola Sei la persona ideale E quindi mi teneva sotto controllo Ero addetto ai fumogeni del Macbeth Fa ridere che suo papà È stato l'antesegnano Adesso poi va di moda Dell'epiteto capra È stato il primo Vero a dirlo a te? A me A te Sempre Capra Sono stato la prima vittima sacrificale La prima vittima come la capra È stato copiato Come abbiamo detto Da altre persone Con lo stesso nome Sai che ogni volta Che si parla di tuo papà Comunque viene molta malinconia Naturalmente per la sua assenza Ma anche molto buon umore Perché comunque È una persona È una persona È una montoridere Fa anche ridere sapere Ho letto che È di solo che poteva prenderlo in giro Dici In realtà ero quello che aveva più coraggio nel farlo A parte che i figli lo facevano Ma io ero quello che si divertiva di più Mi ricordo Insomma in occasione della prova generale del Moby Dick a Genova Sì Mi ricordo con l'allestimento meraviglioso Eh nella meravigliosa struttura costruita Da Renzo Piano Da Renzo Piano Lui faceva un ingresso in scena pazzesco Perché c'era una fanfara La fanfara dei vigili urbani di Genova Che avanzava su un tema scritto dal maestro Piovani 20 attori che si muovono le luci Veniva issato su un argano E poggiato sul ponte della nave Alla fine di questa prova Fece l'errore di venire da me Dice Senti ma come trovi il mio Come trovi il mio ingresso in scena Dici papà secondo me è bellissimo Secondo me se tu mettessi anche dei fuochi d'artificio dietro Ti si noterebbe di più Vabbè però Questo aspetto istrionico era meraviglioso Dici che non sa No ti voglio dire questa cosa Questo ingresso era talmente ipnotico Che la prima di Genova La gente era Io ero sul ponte alto della nave Mentre lui veniva issato Perché faceva Ismaele L'unico sopravvissuto alla tragedia di Moby Dick E per l'emozione Sudavo, freddo Vedete ho mancato un appoggio E sono caduto dal ponte Ma da un'altezza di due metri e mezzo Di schiena sul pavimento So cosa vuol dire Sono campione del mondo Non se ne è accorto nessuno Nessuno Io ho avuto tempo di rialzarmi Camminare Salire sul ponte Lui mi ha guardato E ha cominciato Dice che non sapeva guidare Che lo prendevi molto in giro In realtà Non sapeva guidare E amava le macchine sportive Beh questo vabbè Insomma Perché sai Se tu guidi male Vai con una 500 Dell'epoca Massimo vai 80 all'ora Ma se tu ti compri un macchinone Tipo una Porsche Una di quelle macchine lì Se corri vai a tanto Certo Era umorale Nel senso che cambiava le marce A seconda del suo umore Cioè se era Se era Sì vero vero Cioè Se era incazzato Se era incazzato Teneva la terza Fino a 160 all'ora Se era molto rilassato Metteva la quinta A 40 all'ora Invece sul tennis Lì non si poteva scherzare No sul tennis voleva vincere E tu lo facevi vincere? Alla fine lo facevo vincere All'inizio vinceva Ma era proprio Ci teneva tanto Rubava proprio sui punti Gioppava sulla palla Sulla linea Era competitivo proprio Era un pallettaro Col sinistro maligno Faceva quel sinistro E anche il no look Faceva quelle cose Che guardavano da una parte Hai visto Natale oggi che roba? Eh insomma Pazzesco eh E' incredibile Si è vaccinato tre volte Hai visto? E' in perfetta forma Bravo Questo è uno slogan pazzesco Bravo Senti tra l'altro C'è anche un film Di padre e figlio Che avete fatto insieme In cui giocavate a tennis In cui giocavamo a tennis Sì Voglio far vedere la scena al pubblico Se proprio devi Ma sei così carino Ragazzi mi fate fare due palla a me? Marco mi dai la racchetta? Grazie Ma stavamo finendo il game Oh Eh son due ore che giocate voi Le ragazzine non le avete fatte Nel meno toccare la palla Scusi ma noi vogliamo finire la partita Dai vi do un più 15 meno 15 di vantaggio Ma guarda che roba Forza Lasciala 0-15 Eh no però era net Cosa net? La battuta Ma quale net? Dai ti metti a rubare pure sui colpi Ehi che palle Oh oh stamattina non mi piace per niente C'hai 5 mila lire di multa Perché hai lasciato tutti gli asciugamani sporchi In giro per la casa Allora sai che c'è? Noi ci siamo stufati e ce ne andiamo Bene meglio Gioco con le bambine Forza le femmine dentro che son meglio Sai perché l'ho fatto vedere? Fuori dalle balle voi Sai perché l'ho fatto vedere? Perché questo film Proprio adesso Segna i 40 anni di carriera di Alessandro Gasmo Sì Non lo sapevo però 82 eh sì 40 anni In effetto è così 40 anni di carriera In effetto è così Sì Sì è un viaggio lungo Bello però Molto bello Molto interessante per me E poi ho avuto anche la fortuna di essere Di avere Di fare delle cose A volte anche buone E di avere Sempre un seguito di persone Attenti al mio lavoro Mi fa Sono molto onorato di questo Sono molto contento Senti hai anche un debole per le macchine agricole Ho scoperto Beh insomma Se uno vuole fare il contadino deve Non ho un debole Quindi il trattore Mia madre aveva un piccolo trattore in campagna E quando c'era da arare la vigna Lo facevo Beh complimenti Beh non è difficile No? No Ma ci vuole la patente B o un'altra? No io non avevo patente Con minorenne Ok ok Quindi posso guidare il trattore? Tu non sei minorenne e poi guida Credo tu possa Non lo so Non lo so Non credo forse no Però è facile Cioè proprio io non posso Non so se si possa guidare con la patente dell'automobile Con la B Non lo so Vabbè Adesso chiediamo Poi se qualcuno me lo fa sapere Nel corso del tavolo Rovazzi lo chiediamo Che lui col trattore ci va in tangenziale Ah ok E lo chiediamo E lo chiediamo a lui Senti No io voglio ricordare ancora Io e i Green Heroes Grazie Perché ho deciso Insomma gli eroi verdi Cioè coloro che poi eroi Insomma è quello che dovremmo fare tutti Anche perché stiamo parlando di noi Non è che abbiamo un altro posto È un po' così Un altro posto dove andare Cioè poi non può essere una questione politica Di colore Non è interessante Ma sai quando abbiamo cominciato questo programma Mi ricordo proprio i primi giorni Con Luca Mercalli Dicevamo fra vent'anni Ecco noi sono passati diciannove E siamo ancora qui a dire le stesse identiche cose Dire le stesse identiche Sono volati questi diciannove anni Sì È un po' mortificante tutto ciò Ma insomma è andata così Sì Speriamo di non dover arrivare a un punto In cui le cose saranno talmente evidenti Che sarà obbligatorio farlo Io spero e confido Che ci arriveremo prima Come fanno questi straordinari green heroes Descritti nel mio libro Senti rimani con noi al tavolo? Molto volentieri Sei molto gentile Grazie A tra poco Alessandro Gasman Filippa Grazie a tutti Grazie a tutti